Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Il ministro Calderero non vi ha fatto neanche una telefonata dopo la strage di Firenze? Niente, sono mesi che non si fanno trattative. Noi abbiamo presentato una piattaforma unitaria nello scorso anno. Era una piattaforma che avevamo già presentata anche ad altri governi. L'unico incontro è stato luglio scorso, non ci sono stati altri incontri. E quando si fanno questi incontri, così la dico tutta, non sta discutendo con CGL e Cislewil. Ci troviamo con una quantità di rappresentanti di sigle che non ha senso. E una delle cose che sta venendo avanti è che anziché fare il salario orario minimo, anziché fare la legge sulla rappresentanza, hanno addirittura fatto votare in Parlamento una legge delega che allarga i contratti pirata, vuole reintrodurre le gabbie salariali. Cioè siamo alla follia, non so se è chiaro come concetto. Allora c'è proprio la necessità di un cambiamento radicale. L'altra grande questione...